Il trattato di Maastricht fu il frutto di un negoziato durissimo, l'Italia riuscì a entrare nell'unione monetaria al prezzo di grandi sacrifici e di un cambio Eurolira che gli italiani nei mesi e negli anni seguenti avrebbero in più occasioni lamentato, ma in quel momento quando in realtà il trattato entrò in piena attuazione, la sensazione che l'Italia ebbe è di essere protagonista di un'Europa più grande, capace di coronare i sogni di quella e delle prossime generazioni. Di quelle emozioni è rimasto molto poco, ma Maastricht ancora oggi continua con le sue regole a governare la nostra prosperità.